Andiamo, che è quasi pronta, eh! Si magna! A me, a me, a me! A me! Ancora, ancora è finita, ancora! Vedete? Basta chiedere, chiedete e vi sarà dato. Posso prendere una mela? No! Eh, non funziona mica sempre. Questo si chiamerà oratorio. Cosa? Oratorio, in sé, è un luogo dove i giovani possono andare e parlare ciascuno di Dio. Non fidarti di me, Gesù. Solo aiutami, perché io da solo non ce la faccio. Il paradiso bisogna meritarselo, con le preghiere e le penitenze. Non certo cantando o ballando. Ma perché se ci vanno ballando o cantando, pieni di allegria, in paradiso non li fanno entrare. Ma perché se ci vanno ballando o cantando, pieni di allegria, in paradiso non li fanno entrare. Ma perché se ci vanno ballando o cantando, pieni di allegria, in paradiso non li fanno entrare. Ma perché se ci vanno ballando o cantando, pieni di allegria, in paradiso non li fanno entrare.